Ciao ragazze e bentornati sul canale, oggi un nuovo video, video ricetta perché oggi ho deciso di preparare una creme tart un po' in stile carnevalesco e quindi vado a preparare la frolla e gli ingredienti che occorrono sono sicuramente due uova, 100 grammi di zucchero, poi 95 ml di olio di semi di girasole, 380 di farina e poi vabbè ho preparato anche queste perché non so se avanza un po' di pasta frolla e ci faccio qualche biscottino e poi per quanto riguarda la farcitura occorrerà il mascarpone, vi faccio vedere, occorreranno appunto zucchero a velo, quindi una busta via sufficiente ve ne avanza un po' e un po' di decorazioni e ci sono queste qui codette di vario tipo, ne ho di due colorazioni, quindi però probabilmente un mix poi occorrerà la panna appunto da montare, io ho comprato questa di HD senza lattosio perché sono intollerante e il mascarpone non ho preso quello senza lattosio ma ho deciso di provare il valet, il cremoso, questo nuovo che è appena uscito che dovrebbe essere un po' più digeribile, più leggero perché è 100% vegetale è un'alternativa appunto al mascarpone con base mandorla dice non so come sia quindi lo proverò insieme a voi, montiamo il tutto e vediamo come viene il mascarpone con questi due appunto insieme e niente inizio a preparare il tutto e poi vi occorrerà una mascherina sono andata a stampare su un foglio A4 una maschera semplice di carnevale la vado a ritagliare e la ridisegno poi su un foglio di carta forno perché è un po' più, cioè è meglio perché a me lo metto a contatto comunque con la pasta frolla e poi non attacca la prima cosa da fare è mettere le uova con lo zucchero e andare a frullare il tutto oppure anche a mano in realtà potete fare anche a mano, io purtroppo ho un braccio fuori uso oggi però volendo lo potete anche frullare con lo sbattitore elettrico altrimenti vi aiutate con un cucchiaio quindi vado a mescolare un po' e poi continuiamo ora mettiamo l'olio di semi eccolo qui io utilizzo sempre questo bicchiere graduato di Tiger con cui mi trovo benissimo e andiamo a fare un'altra mescolatina veloce e adesso pian pianino mettiamo la farina poco per volta perché è tanta mescoliamo ci vediamo con l'impasto sul tagliere pronto l'impasto ora non ci resta che andarlo a stendere però prima vado a ritagliare la maschera allora ho steso con il mio mattarello quello che ruota l'impasto adesso prendo la mia mascherina che ho ritagliato sulla carta forno non è la migliore dei materiali perché si arrotola però potete farla magari anche su quelli di carta alimentare e quelli più scuri non so spiegarvi comunque forse è meglio e andiamo a ritagliare due maschere di queste perché andranno poi assemblate insieme quindi adesso prendo un coltellino affilato e poi le ritaglio ho steso finalmente le mascherine sulla carta non la carta forno scusate il tappetino che ho appena acquistato di Tescoma per i dolci quindi voglio vedere se cuoce più uniforme e se vi interessa il tappetino sotto vi metto il link e adesso vado con la forchetta a fare un po' di fori per evitare che si gonfi un po' la maschera lo faccio dappertutto maschere pronte per essere infornata adesso vado a reimpastare quello che avanza per fare due o tre biscotti e poi accendo il forno intanto che scalda il forno ho preso una ciotola e andiamo a preparare il mascarpone vado a versare appunto tutta la panna questa qui e la iniziamo a montare qui pian pianino mettiamo tutti gli altri ingredienti quando è quasi montata prendo il vallè e lo vado a mettere è bello denso quindi adesso mi aiuto con un cucchiaio e continuiamo a frullare ho inserito la crema adesso frulliamo ancora fino ad ottenere una bella consistenza e per ultimo mettiamo lo zucchero a velo la crema di mascarpone è pronta quindi non ci resta che andarla a mettere poi nella sac à poche usiamo questa qui io userò questa qua però insomma col foro tondo va bene e l'ho già montata e adesso aspetto la cottura dei biscotti che dovrebbero stare ancora perché non sono ancora pronti ho messo 15 minuti e ho ottenuto il forno a 170 più o meno però il mio in realtà non è proprio preciso e quindi l'ho tenuto a 190 perché 180 per lui sono 200 gradi più o meno ora aspettiamo che diventino belli doratini poi dopo il sforno li lascio raffreddare andiamo poi a farcire il tutto insieme eccole qua le maschere sfornate le ho lasciate un po' dorare leggermente nei bordi ma sono già cotte e ora le faccio raffreddare e vi faccio vedere anche i biscottini questi sono i biscottini sono venuti così vedete con lo stampo sotto sono così e niente li faccio raffreddare poi dopo possiamo farcire col mascarpone le decorazioni varie di zuccherini a piacere insomma allora sac a poche alla mano inizio a farcire vi faccio vedere poi il primo strato finito primo strato steso adesso andiamo a mettere la seconda frolla e poi dopo ancora mascarpone secondo strato di mascarpone adesso finalmente andiamo a mettere le decorazioni quelle belle ho preparato questi due adesso vado a metterli un po random molto belli perché sono di tutti i colori e poi metterò anche forse un po di quegli altri che ho da parte lì perché sono nuovi ma quelli proprio che volevo io quelle palline non li ho trovati era finito tutto a banco dolci insomma nel reparto dolci volevo dire perché era domenica e quindi mi sono dovuta accontentare però vi dico sono molto carini anche questi che avevo già in casa alcuni ora vediamo se mettere questi qui un po in giro per dare un tocco di azzurro e carnevale facciamo una cosa un po decorata un po colorata un po vivace ok finisco di mettere gli ultimi due poi vi faccio vedere i biscottini che voglio mettere sopra allora questi sono i decori adesso per finire vado ad applicare un po di biscottini qui giusto per fare un po di decoro una qua forse no forse qua e una così ma si dai la mettiamo qui una stellina voilà la creme tarte pronta non ci credo ancora in realtà non la mangerò però io totalmente ma la devo faccio portare al lavoro al mio compagno che la mangerà con i suoi colleghi domani però ero molto curiosa di provarla a fare quindi sono soddisfatta da e spero sia anche buona adesso la metto in frigo così domani è pronta e il mascarpone rimane un po più solido e soprattutto la pasta frolla si ammorbidisce quindi poi diventa molto più buona se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con un bel like mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi video vi saluto e al prossimo ciao ciao